In questo video desidero presentarvi il numero 24 di Autoricerca, pubblicato nel 2022, che è interamente dedicato al tema della fisica. Contiene tre articoli che affrontano aspetti fondamentali e fondazionali della meccanica quantistica e della teoria della relatività. Tutti e tre toccano in modo più o meno specifico la cosiddetta interpretazione concettualistica della teoria quantistica, inizialmente proposta da Diederik Arz nel 2009 e attualmente indagata dal gruppo di Bruxelles presso il CLEA, il Center Leo Apostel for Transdisciplinary Research, un centro inter-facoltà della Vray University at Brussels, la cui missione è proprio quella di gettare ponti tra le diverse discipline scientifiche, sociali e culturali. Il primo articolo, già pubblicato in inglese nella rivista della Springer Foundations of Science, lo scrissi tenendo a mente uno degli obiettivi proprio del CLEA, quello di un'ampia diffusione della conoscenza scientifica. Pertanto si rivolge a un pubblico genuinamente trasversale di lettori, non necessariamente con una preparazione di tipo accademico. Il suo contenuto è stato inizialmente presentato in un intervento che aveva il piacere di tenere il 16 maggio del 2019 a Parigi, presso la sede Bertrand dell'Agenzia Spaziale Europea, nell'ambito dei loro Beyond Space Lunchtime Series, il cui scopo era presentare al personale dell'Agenzia Spaziale delle idee che vanno in qualche modo oltre lo spazio in quanto tale. Beh, penso di averli accontentati visto che il titolo della mia presentazione dell'articolo che ho in seguito scritto è Una realtà non spaziale, e in esso cerco di evidenziare che in base a quanto appreso sul comportamento dell'entità del micromondo, siamo in qualche modo obbligati ad accettare che non potranno mai essere pienamente rappresentate come delle entità stabilmente appartenenti al nostro esiguo teatro spaziale e più generalmente spazio-temporale. In altre parole, gli elementi costitutivi della nostra realtà fisica sarebbero di natura non spaziale o non spazio-temporale. A quando, quindi, un'agenzia non spaziale? Quello della non spazialità è un ingrediente fondamentale dell'interpretazione concettualistica, poiché una volta stabilito che i fenomeni quantistici come l'entanglement, gli effetti di interferenza e l'indistinguibilità, se esaminati attentamente ci raccontano che per l'appunto c'è molto di più nella nostra realtà fisica di ciò che può essere rappresentato in termini spazio-temporali, resta allora la pressante questione di sapere quale possa essere la vera natura di un'entità non spaziale o non spazio-temporale. Per quanto mi è dato di sapere, nessuna interpretazione della fisica quantistica ha mai offerto una risposta soddisfacente a questa domanda, salvo per l'appunto l'interpretazione concettualistica, che viene presentata in modo estensivo nel secondo articolo contenuto in questo numero 24 di Autoricerca, articolo che ho avuto il piacere di scrivere in collaborazione con Diederik Hartz, Sandro Sozzo e Thomas Veloz e che fu pubblicato per la prima volta nel 2018, sempre su Foundations of Science. Questo lungo lavoro è una versione estesa di una conferenza plenaria che ebbi l'onore di tenere al simposio Words of Entanglement nel settembre del 2017 a Bruxelles, che comprendeva numerose sessioni dedicate a diversi temi della ricerca, come i fondamenti della fisica quantistica, le strutture probabilistiche non classiche, l'entanglement nelle scienze sociali, i sistemi complessi, l'intelligenza artificiale quantistica, le teorie della decisione in condizioni di incertezza e lo studio della coscienza, solo per citarne alcuni. Nella mia presentazione ho spiegato come sia possibile comprendere lo strano comportamento delle entità quantistiche e relativistiche adottando un'ipotesi speculativa circa la loro natura, ipotesi che è alla base dell'interpretazione concettualistica. A questo proposito permettetemi di citare il fisico francese Jean-Marc Leville Blanc, che alcuni anni fa affermava quanto segue. Bisogna oggi rendersi conto, diceva Leville Blanc, che la teoria quantistica esiste e che i suoi concetti, dopo un secolo di attività scientifica collettiva, sono profondamente radicati nel senso comune dei fisici. Questi concetti non hanno più bisogno di essere accostati a quelli della fisica classica, ma possono e dovrebbero essere presi sul serio per quello che realmente sono. Una tale comprensione intrinsecamente quantistica ci porta a riconoscere che gli enti della fisica quantistica non sono né onde né particelle, come vorrebbe farci credere la dualità. Non sono né onde né particelle anche se esibiscono in circostanze molto particolari due tipi di comportamenti limite, come onde classiche o particelle classiche. E' stato proposto di sottolineare questo aspetto, dice sempre Leville Blanc, questo aspetto ontologico, denominandoli quantoni. Ora, l'ipotesi speculativa alla base dell'interpretazione concettualistica è che questi quantoni di cui parla Leville Blanc, in ultima analisi, altro non sarebbero che dei cognitoni, vale a dire non delle entità oggettuali ma delle entità concettuali. Tuttavia questo non va inteso nel senso che le entità quantistiche relativistiche sarebbero equiparabili a dei concetti umani, ma nel senso che condividerebbero con essi una natura similconcettuale. Allo stesso modo in cui, ad esempio, le onde marine e le onde acustiche, pur essendo entità fisiche molto differenti, condividono non di meno una medesima natura ondulatoria. Tutto questo verrà ampiamente spiegato e motivato nell'articolo in questione che è stato scritto pensando ad un pubblico interdisciplinare, quindi a dei lettori non necessariamente specialisti nel campo della fisica. Non di meno si rivolge a dei lettori con una sufficiente cultura scientifica generale, realmente motivati ad accedere a spiegazioni e comprensioni d'avanguardia, con una particolare attenzione all'importantissimo dibattito sulle possibili interpretazioni e fondamenti delle teorie fisiche. Riguardo l'importanza di trovare un'interpretazione per il formalismo quantistico, è forse utile citare qui anche le parole del filosofo Tim Maudlin, che diceva questo. Non c'è dubbio che esiste un formalismo matematico da cui sappiamo estrarre delle previsioni, che quelle previsioni possono essere accurate fino a 14 cifre decimali, ma una teoria fisica è più di un semplice formalismo matematico con delle regole. Dovrebbe poter specificare un'ontologia fisica, il che significa dimmi cosa esiste nel mondo fisico, ci sono particelle, ci sono campi, c'è lo spazio-tempo, e dovrebbe parlarmi di queste cose e il problema è che la teoria quantistica, dice sempre Maudlin, non è una teoria in questo senso, è solo un formalismo, e quindi ciò che la gente chiama interpretazione della teoria quantistica, che suona come una cosa buffa da fare, perché si potrebbe dire beh ho una teoria, cosa sarebbe un'interpretazione? Ebbene un'interpretazione corrisponde di fatto allo sviluppo di precise teorie fisiche che fanno le stesse previsioni, o quasi le stesse previsioni, di quelle derivate a partire da questa ricetta matematica standard, quella del formalismo quantistico standard, che secondo Maudlin per l'appunto non sarebbe una vera e propria teoria se non si aggiunge un'interpretazione. Ora, nel corso degli anni sono state proposte innumerevoli interpretazioni di questo formalismo quantistico, ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi. L'interpretazione concettualistica si distingue per il fatto che è emersa dal recente successo dell'uso del formalismo matematico quantistico nella modellizzazione di diversi aspetti della cognizione umana, come le dinamiche concettuali nei processi di pensiero e decisionale. Questo successo ha portato Dietrich Arz ad accarezzare l'idea che non potesse essere una mera coincidenza che il formalismo matematico della meccanica quantistica fosse così bene attrezzato nel descrivere così tanti aspetti del dominio cognitivo umano, che ciò fosse dovuto in qualche modo a una corrispondenza più profonda, legata alla vera natura delle entità microfisiche. Arz lavorò sull'idea dell'interpretazione concettualistica inizialmente in silenzio, ma non appena il suo potere esplicativo divenne sempre più evidente, permettendogli di affrontare tutti gli aspetti difficili da comprendere della meccanica quantistica, come il principio di indeterminazione di Heisenberg, le particelle indistinguibili e l'entanglement, allora dal 2009 iniziò a pubblicare le sue intuizioni e i primi risultati di questo potente quadro esplicativo, il cui presupposto era che cosa? Che le entità quantistiche fossero delle entità concettuali, cioè delle entità governate dal livello del significato. Il secondo articolo presente in questo volume offre per la prima volta una presentazione sistematica a 360 gradi di questa affascinante interpretazione, che mette veramente a dura prova i nostri pregiudizi storici sulla realtà fisica, quelli che vorrebbero che fosse costituita unicamente da oggetti spazio-temporale. Venendo ora al terzo e ultimo articolo, si tratta di un dialogo immaginario che scrissi a quattro mani con Diederich Hartz. Si tratta di una rivisitazione ed estensione di un articolo in forma dialogica pubblicato in inglese nel 2015 e sono sicuro che il testo sarà di grande interesse per chi è, ad esempio, rimasto affascinato dalla cosiddetta interpretazione a molti mondi della fisica quantistica, che contempla un numero infinito di mondi o universi, paralleli, che si diramano in continuazione, dove tutti i possibili esiti di una misura quantistica vengono sempre e immancabilmente attualizzati. Nel dialogo questa visione a molti mondi viene contrapposta a un'altra visione, una visione a molte misure, dove esiste un solo mondo e dove le misure quantistiche sono in grado di produrre un singolo esito alla volta. A differenza dei molti mondi dell'interpretazione di Everett De Witt, il singolo mondo dell'interpretazione a molte misure, più precisamente detta interpretazione a misure nascoste, che tra l'altro è perfettamente compatibile con l'interpretazione concettualistica, ebbene questo singolo mondo possiede una maggiore profondità, in quanto contempla l'esistenza di una vastissima dimensione di pura potenzialità, di natura non spazio-temporale, grazie alla quale diventa possibile dare un senso e un fondamento anche ai processi di natura creativa. Bene, mi fermo qui, spero solo di avervi incuriositi, e che i tre articoli presentati in questo volume vi offrino una prospettiva intellettualmente stimolante sulle due grandi rivoluzioni scientifiche del secolo scorso, la quantistica e la relatività. Ogni articolo è a sé istante, potrà essere letto indipendentemente dagli altri due, ci saranno delle inevitabili ripetizioni, ma, come dice il proverbio latino, repetitia juvent, cioè in un contesto di apprendimento ripetere più volte certe nozioni e ragionamenti può facilitare, anzi sicuramente facilita, la comprensione. Un'ultima cosa, per chi non conoscesse Autoricerca vi ricordo che il volume in formato PDF è scaricabile gratuitamente con un semplice click e che è possibile scaricare anche il PDF dei singoli articoli. L'accesso aperto alla versione elettronica non esclude però la possibilità di ordinare il volume cartaceo per chi ama il profumo e la musica della carta e indubbiamente l'acquisto del volume stampato è un modo per sostenere la missione della rivista. Grazie e a presto.